Aspettiamo di sì, è una gara ovviamente molto difficile, giochiamo al Palatrento contro una grande squadra, da questo punto di vista sarà difficile a livello tecnico, magari a livello mentale un pochino più semplice, una partita dove abbiamo meno da perdere di altre, quindi speriamo che finalmente vediamo due partite buone di fila, abbiamo dimostrato che possiamo giocare bene sia con Macerata, Latina, Ravenna, ma sempre in casa, spero vedere una bella prestazione fuori al di là del risultato, ovviamente se dopo arriva il risultato è molto meglio, ma sempre è importante fare un buon studio dell'avversario e anche ovviamente se abbiamo giocato una partita l'uno contro l'altro, può essere che ci dia qualche punto che faccia la differenza, però ovviamente tutto deve partire di una buona prestazione nostra, di un buon gioco nostro e diciamo che la preparazione tattica ci può dare qualcosa in più, quelli due, tre punti importantissimi, ma bisogna arrivare a 22 con i nostri mezzi. Grazie a tutti.